La messa è stata celebrata da Don Salvatore Falzone, cappellano militare della legione Sicilia, appena ritornato da una missione in Kosovo. Ridefinite le cariche all'interno degli organi direttivi della Confocommercio di Gela, presieduta da Francesco Trenito, Rocco Darma, già socio della Confocommercio Ascom Gela, è stato letto quale componente della giunta dell'associazione con delega alla rappresentanza degli agenti di viaggio. Maurizio Casco, già componente del Consiglio Generale della Confocommercio Ascom Gela, è stato letto componente della giunta dell'associazione con delega alla rappresentanza degli insediati nella zona industriale di Gela, IRSAP ex ASI. Sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, quarta serie speciale del 13 febbraio scorso, è stato pubblicato il concorso pubblico per titoli ed esami per la missione di 61 allievi ufficiali del ruolo normale Comparti Ordinario e Aeronavale all'Accademia della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2018-2019. I post disponibili sono così ripartiti 55 destinati al Comparto Ordinario, 6 al Comparto Aeronavale, 3 riservati alla specializzazione pilota militare ed altrettanti a comandante di stazione e unità navale. La presentazione delle domande dovrà venire entro il 15 marzo per informazioni concorsi.gdf.gov.it Si ride al Teatro Antitoto di Gela, domani e giovedì 1 marzo alle 21 sarà portato in scena a secondo diluvio universale, due atti di Guilamo Greco. Per informazioni telefonare allo 0933 82 2707 338 7143 293. Master Costa con Antonello Costa al Teatro Comunale Eschilo di Gela, appuntamento previsto per sabato 3 marzo alle 17.15 e alle 21.15. Per informazioni contattare allo 0933 91 1892 345 58 80 580.